E' partito il numero 7 della gara numero 3, Glef Bortivo-Urania, Bossa Riccardo, Gazzini, Lorenzo, ed è partito anche il numero 8 della caratteria di Voltri, Scardovi, Luca, Tonini, Matteo, stimolati da Sovrero Adele, ed è partito anche il numero 9 della Chiavari-Lavagna, ed è partito anche il numero 10 la caratteria di Porto Ceresio, Barocci, Lorenzo, Martinelli, Andrea, stimolati da Bottinelli, Martina. Arrivati anche il numero 10, un applauso anche a questi ragazzi. Una festeggiare, non veniva dalle nascite. E' il numero 7, il primo talento, guardo, farà l'arrivo. Asportivo, guarda. Vai Ricchi! Vai Ricchi! Vai Gazz! Questa poco! Ultime palate! Ultime palate, dai! Dai Gazz! Baccati Letta al timone. Un applauso a questi ragazzi. Il numero 8, la caratteria di Montri, con Scardo di Lupe e Tonini Matteo. A presto! Ma